Paolo Belli avrebbe deciso di interrompere il suo tour. Il cantautore e presentatore avrebbe preso tale decisione per stare vicino alla moglie che sta affrontando una malattia. Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successivi date saranno tu. Ora penso solo a stare vicino a Diana, è l'unica cosa che conta. Ha scritto il settimanale di Più TV riportando le parole di persone molto vicine a Diana. Ora penso solo a stare vicino a Diana. È l'unica cosa che conta. Ha scritto il settimanale di Più TV riportando le parole di persone molto vicine a Diana. Sui social del braccio destro di Millie Carlucci a Ballando con le stelle. Nessun posto comunicazione ufficiale è stata condivisa. Su Instagram Belli condivide molti momenti trascorsi con i nipotini che sono la sua gioia. Su Instagram Belli condivide molti momenti trascorsi con i nipotini che sono la sua gioia. La decisione di fermare il tour sarebbe stata presa dopo l'intervento subito dalla moglie. Diana sarebbe stata operata d'urgenza per una malattia, ma non è dato sapere quale sì. La decisione non sorprende. In un'intervista a Today.it ha confessato che Diana è come se fosse una mia gamba. Se non ci fosse lei non riuscirei a... Mia moglie Diana è l'altra faccia della luna, l'altra faccia della mia anima. Un post condiviso da Paolo Belli chiocciola Paolo Belli sotto lineatura official.